Mai così grande, mai così vicina, la luna si mostrerà in tutto il suo splendore il 3 dicembre. È questa l'unica data del 2017 per ammirare il nostro satellite nel momento di massima vicinanza alla Terra, in coincidenza del plenilunio. La chiamano Superluna, anche se il termine è più romantico che tecnico. Di fatto vedremo la luna più grande, più vicina e più luminosa. La potrete ammirare ad occhio nudo, fotografare, riprendere e sognare guardandola. Non solo. La potrete seguire in modo speciale anche con il Virtual Telescope, grazie ai suoi strumenti mobili riprenderà la Superluna del 3 dicembre, mentre sorge sull'orizzonte di Roma, tra i più celebri monumenti della capitale, condividendo in diretta la visione con i curiosi di tutto il mondo. Il commento all'evento sarà dell'astrofisico Gianluca Masi. Noi lo abbiamo intervistato. Noi abbiamo ormai adottato questo termine a furor di popolo. Superluna non è un termine scientifico, indica semplicemente una luna piena o una luna nuova che si verificano quando il nostro satellite è più vicino della media alla Terra. Questo è un fatto normale perché la luna si muove su un'orbita ellittica attorno alla Terra, quindi talvolta è più vicina al perigeo, talvolta è più lontana. Ecco, semplicemente quando la fase di luna piena o di luna nuova si verificano al ridosto del perigeo, essendo un po' più vicina, questo luna è un pochino più grande e allora a furor di popolo è stata battezzata così, Superluna. Superluna è un termine mediatico che io giudico però fortunato perché riesce a trasferire, poi ovviamente sta a noi raccontare bene cosa sia e cosa non sia la Superluna, tuttavia è un termine molto efficace. Io apprezzo molto quando si riesce a descrivere un fenomeno naturale correttamente, tuttavia facendolo apparire di interesse in modo tale che chi ne sente parlare, magari sfidando il gelo ormai evidente di queste notti, decida di alzare lo sguardo alle stelle, lo sguardo verso l'alto. Quindi ben vengano eclissi e ben vengano eventi come questo che ci permettono di fare comunicazione e cultura scientifica. La differenza tra una luna piena normale e una Superluna non è così eclatante. Ci sono stati, devo dire, dei test dove osservatori esperti si sono sottoposti a una serie di verifiche senza conoscere quale fosse la tipologia di luna piena che stavano per vedere e mediamente hanno riconosciuto quando la luna era un po' più vicina. Quindi chi è assiduo nell'osservazione del cielo può anche rendersene conto. Dubito invece che l'osservatore casuale, sbirciando fuori dalla sua finestra, possa accorgersi che quella del 3 dicembre sia una Superluna rispetto alla precedente. Mediamente ci sono diverse Superlune l'anno, divise tra lune nuove e lune piene. Per esempio quest'anno noi ne abbiamo avute 4 di Superlune, questa è l'unica piena. Le lune nuove noi non le vediamo perché la luna si proietta nella direzione del Sole, salvo che ci sia un'eclissi totale di Sole, un'eclissi di Sole, cosa che è anche accaduta durante la Superluna. Però ecco, ne avremo anche altre, anche la prossima, diciamo, dei primi di gennaio e anche a fine gennaio. Tra l'altro quella di fine gennaio sarà una luna spettacolare perché sarà una Superluna, ci sarà un'eclissi totale di Sole e sarà la seconda luna piena di gennaio che nel gergo viene definita luna blu. Non oso immaginare, accenderemo veramente uno status notevole. Però ecco, ce ne sono diverse l'anno. Naturalmente la luna piena si vede comodamente da ogni luogo, però vederla sorgere magari quando ancora c'è luce nell'ambiente, quindi al crepuscolo, è particolarmente affascinante. Intanto perché l'occhio e magari anche la fotografia di chi volesse cimentarsi nel catturarne qualche immagine riesce anche a leggere la scena del contesto e magari vederla sorgere, che so, da un bel vedere da Roma o da altre città che ovviamente offrono molte occasioni, molti scorci artistici, aggiunge un fascino straordinario. Quello che conta, se la si vuole vedere al sorgere, è avere un orizzonte verso oriente sgombro da ostacoli. Tuttavia, ecco, la luna è fortunatamente uno di quei corpi celesti che si osserva senza la benché minima difficoltà. La luna è un elemento fondamentale nella nostra cultura. Ci sono opere, rassegne scientifiche che analizzano proprio il ruolo della luna nella cultura e molte opere d'arte, inutile sottolinearlo, si ispirano più o meno profondamente o ingenuamente, ecco, alla fedele compagna della Terra. La sua presenza costante e pure mutevole con le sue fasi ha permesso di riconoscere nel cielo un ritmo. Questo è stato un indizio fondamentale perché ha permesso anche di creare i primi sistemi calendariali. Ancora oggi alcune civiltà usano il mese lunare, abbastanza semplice, lasso di tempo che, che so, intercore tra due lune piene, ecco. Quindi, certamente, la sua presenza nel cielo ha da sempre attratto l'interesse e la curiosità. E dei nostri antenati, e spero anche la nostra, quindi la superluna ci aspetta a brevissimo. Per osservare la luna, la luna piena in particolare, in questo caso è sufficiente l'occhio nudo. Però il virtual telescope, come ormai fa da molto tempo, permetterà a chiunque di seguire questo evento anche online. Cosa aggiungiamo di nostro in questo? La possibilità, appunto, di vedere sorgere la luna piena da Roma. Quindi il nostro obiettivo è quello di condividere proprio la maestosa comparsa sull'orizzonte della superluna del 3 dicembre, mentre appare, trapela, diciamo, tra i monumenti illustri della capitale. Ecco, quindi ancora una volta noi cerchiamo, ecco, lo dicevamo anche prima, il rapporto tra la luna e la cultura in generale. A noi piacerà mostrare questo evento, questo astro, naturalmente in simbiosi con il paesaggio, certamente leggendario, dei monumenti della città eterna.